non verbale nella seduzione, perché questo è un altro punto molto importante. Ci sono dei modelli, diciamo, che noi possiamo utilizzare per conquistare, per sedurre, dei modelli di comunicazione non verbale che possono essere imparati e possono dare la possibilità di conquistare, possono dare la possibilità di sedurre. Ad esempio, guarda quanto velocemente parla una persona. Persone che parlano in modo estremamente veloce, sempre estremamente veloce, ad esempio, sono persone che da un punto di vista sono persone molto pragmatiche, potenzialmente sono persone visive, ad esempio. Quindi non puoi stare lì a raccontargli della rave e della fava, perché ti sfanculerà, si toglierà dei maroni, non ti prenderà in considerazione. Da un lato la velocità rappresenta vitalità, dall'altro però rappresenta anche una persona che ha fretta, una persona che non vuole stare a, diciamo, una persona che non vuole stare, come possiamo dire, ad avere, è una persona sbrigativa, è una persona che ti vuole rapportare a letto rapidamente, mentre invece una persona potrebbe parlare lentamente. Persone che parlano in modo lento, eccessivamente lento, tendono a essere persone indecise, persone che non sanno quello che vogliono, che non sanno, ad esempio, nelle relazioni sentimentali affettive, tendono a essere indecisi, tendono a non, a rimuginare sulle cose. Quindi anche qua, in generale, in media, virtus est. Ma tieni presente un altro fatto fondamentale, che il paraverbale, cioè la comunicazione non verbale, ci dice moltissimo su quello che noi vogliamo e possiamo ottenere da una persona, da una relazione. Il paraverbale ci dice moltissimo. Ad esempio, persone che sono monotone tendono a essere noiose, quindi tendono a non essere maschi alfa, non essere maschi dominanti. Un altro parametro molto importante che tu puoi utilizzare nella seduzione è la prossemica, cioè la gestione dello spazio. Ad esempio, persone che tendono ad avvicinarsi molto quando ti parlano, tendono ad essere un po' aggressive, un po' possessive, un po' manipolative. Persone che tendono ad allontanarsi, invece, ti stanno dando un rifiuto. Le persone migliori, quelle con cui avere, con cui, che ti stanno dando un gradimento, con il quale puoi avere una relazione sentimentale affettiva positiva, ad esempio, è quelle che più o meno mantengono la stessa distanza, che deve essere, grosso modo, appena hai riconosciuto una persona a una distanza di 70-80 centimetri, insomma, poi dipende un po' dall'ambiente dove l'hai conosciuta. Ecco, una persona che mantiene più o meno la stessa distanza, vuol dire che ti sta seguendo, vuol dire che è interessata veramente profondamente a te. Chi si avvicina eccessivamente, invece, è una persona aggressiva, è una persona manipolativa, è una persona che vuole dominarti in qualche modo. E invece le persone che tendono ad allontanarsi, come dicevo prima, ti stanno dando fondamentalmente dei segnali di rifiuto, saranno persone che ti faranno vivere l'abbandono, che ti faranno vivere, che non ti daranno tutta questa sicurezza. Ecco, quindi che vedi che già da queste cose tu puoi osservare. Poi ci sono altri particolari che puoi osservare e che puoi mettere in atto, ad esempio. Uno di questi è, diciamo, la posa di potere. Tutte le persone che tendono a protendersi, tendono ad avere le gambe un po' divericate, soprattutto di uomini, diciamo che tendono a essere uomini dominanti, tendono ad essere uomini alfa, soprattutto se mettono le mani sui fianchi. Ecco, questa postura è di un uomo completamente egocentrico. Tenete presente che la mano sul fianco, tutta questa posizione, è la posizione estrema di egocentrismo. Talvolta, talvolta la mettono in atto anche le donne, ma soprattutto la mettono in atto gli uomini che vogliono rapportarsi come dominanti. E tra l'altro il maschio dominante, tu come fai a capire se ad esempio sei in un locale, ad esempio, qual è il maschio dominante? Poi il maschio alfa. Però poi, cara malgasciona, devi fare una valutazione prima. È meglio che ti trovi il maschio alfa o è meglio che ti trovi il maschio beta? E qua dipende un po' dalle tue esigenze, perché il maschio beta, quello che tende ad essere gregario, quello che talvolta è un po' zerbino, potrebbe, diciamo, in alcuni casi essere quello che, siccome un po' sfigato con le donne, potrebbe fare il caso tuo. Perché se tu vai alla ricerca di una relazione stabile, vuole la ricerca di una relazione a lungo termine, beh, puntare su un maschio alfa potrebbe essere estremamente critico per te, perché il maschio alfa, che vuole essere dominante, normalmente perlomeno devi condividerlo con altre donne. Non puoi pensare che un maschio alfa, un maschio dominante, stia solo con una donna. Non esiste, questo è in natura, è un qualcosa di innaturale. Quindi le donne che pensano di stare con un maschio alfa e pensano che questo maschio alfa stia solo con loro, sono soltanto delle illuse, sono soltanto delle illuse. Perché in natura questo non avviene, non avviene minimamente. In qualunque mammifero, e noi siamo dei mammiferi, i maschi dominanti che hanno accesso naturalmente a tante donne e quindi hanno la facoltà, diciamo, proprio perché hanno un carattere forte, tendono ad essere dominanti, tendono ad essere alfa, tendono ad attrarre naturalmente proprio per il loro modo di fare, non sono mai monogami. I monogami eventualmente sono i maschi beta, i maschi gregari, quelli che non riescono ad accedere o accedono con difficoltà alle donne, hanno difficoltà a conquistarle. Ecco, questi tendono a essere più fedeli, tendono a dare più valore anche al concetto di famiglia, tra virgolette. Perché? Proprio perché non sono dominanti, hanno paura, temono di più di perdere una persona. Quindi qua devi porti questa domanda. Preferisci un maschio alfa che necessariamente andrà con altre donne? Oppure preferisci un maschio beta che hai più possibilità che sia fedele? Beh qua sta a te la scelta, diciamo. Però l'importante è imparare a riconoscere quello che è il maschio alfa e quello che è il maschio beta. Se tu vai in un locale, ad esempio, in qualunque locale, il maschio alfa vedrai che terrà delle posture molto larghe, starà appoggiato al divano in questo modo, cioè gesticolerà, avrà ampi gesti mentre gesticola, occuperà tanto spazio, starà seduto con le gambe di varicate e occuperà molto spazio. Perché il maschio alfa vuole avere tutto il potere su di sé anche da un punto di vista non verbale. Questo è il modo più semplice per riconoscere un maschio alfa da un maschio beta. Il maschio beta invece sarà quasi trasparente, non lo vedrai quasi neanche, tenderà a stare un po' chiusi, a stare un po', diciamo, gambe chiuse, occupare poco spazio. Per questo il maschio beta talvolta in un locale passa quasi inosservato, non si vede quasi neanche. Ma il maschio alfa non è che fa cacciare, è che ha una comunicazione non verbale tendenzialmente dominante. Però, una volta che tu hai identificato l'alfa e il beta, sta a te scegliere, diciamo, quale preferisci. Diciamo che il maschio alfa ha queste posture allargate perché queste posture favoriscono l'aumento di testosterone, che è un po' la caratteristica del maschio. Perché il maschio alfa ha più testosterone e il testosterone è l'ormone collegato alla dominanza, è l'ormone collegato al potere. E quindi puoi sta a te fare la scelta. Intanto seguimi su tutti i miei canali YouTube perché sui miei canali YouTube troverai delle cose interessanti. Quindi ti consiglio di seguirmi.